Frus, ha l'arrivat, sior timp, veca che ho soi, ho soi pront parudaus a farli spulizies di prime vere, oh, vele ca, une tele di ragni. Eh, ma ho soi arrivata anche a partaus un enigme di risolvi, se so pront, scoltaimi ben. Fas un passadrete e poi un eglieromete, tocchiti la lenghe, mettum dett al chiaf, concentriti un evore e siere cu la clav, che al mio soi biel ti porti un enigme e anche induvinel. Alla, la vita ti chiede ad un figlio. Qui sei? Il Rhein, ve? Beh, vi sono indovinati. Bravs! Mamà! Grazie! 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 Grazie!